L'8 dicembre, giorno della festa dell'Immacorata Concezione, a Roma, in piazza di Spagna, il Papa depone un mazzo di fiori ai piri di uno stato di Maria. A Lourdes, nello stesso luogo dove la Vergine ha detto, sono l'Immacorata Concezione, il santuario vi invita a ripostare una rossa alla grotta per renderle lo stesso omaggio. Offrite una rossa a Nostra Signora di Lourdes su www.rourdes-france.org. Noi la deposteremo per voi alla grotta l'8 dicembre. A Lourdes su www.rourdes-france.org Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario. Nel santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alle nostre preghiere. Preghiamo per il Santo Padre e il Papa Francesco. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono. Preghiamo per quanti oggi hanno lasciato questo mondo perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo inoltre per la conversione dei pecatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto. Con Maria, donna di Pasqua, chiediamo al Padre di renderci testimoni credibili della cultura della risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Preghiamo oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che dimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre la tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Con Maria, donna protesa al cielo, chiediamo al Padre di farci sempre progredire sulla via del vero bene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. D'altaci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e era sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Con Maria, donna ricolma di Spirito Santo, chiediamo al Padre di non farci mai mancare l'inestimabile dono dello Spirito Consolatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'onipotente, è santo il suo nome. Con Maria, donna del cielo, chiediamo al Padre di non perdere mai di vista la meta alla quale anche noi siamo chiamati. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Con Maria, Regina del Cielo, preghiamo il Padre perché si compia il suo universale disegno di salvezza su tutto il genere umano. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli e dei secoli. Amen. Preghiamo ancora per il Santo Padre e il Papa Francesco e per le sue intenzioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli e secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, ad vocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis postod exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. Maria, Vergine dell'attesa, Oh Madre, tu conosci la trepidazione e la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come culla del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore, umano e divino, e hai atteso di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù, e l'hai visto allontanarsi da casa, per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno, e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere, nel lungo e drammatico sabato santo, e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade, e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Maranatà, vieni Signore Gesù. La Chiesa ti invoca, vieni Signore Gesù. Con Maria ti invoca, vieni Signore Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi, Santa Bernadette, prega per noi, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. A te io prometto, fanciulla fedel, il gaudio splendente, per sempre nel Ciel. Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria. Dei nostri ammalati lenisce il dolor che siano consolati dal dolce tuo cuor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Grazie. 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 Grazie a lei. Grazie. 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 Grazie.